Devo dire che superato il primo impatto, anche forte, delle immagini, dei contenuti immediati, molto specifici, eccetera, ho anche visto però che i contenuti scientifici ci sono. In realtà, a mio parere, il libro esprime molto bene i contenuti che sono le curiosità, i dubbi, le preoccupazioni tipiche dell'età adolescenziale, della prima giovinezza. Questo ha un qualcosa in più, qualcosa che forse può incuriosire maggiormente le ragazzine e aiutarle a trovare più tranquillità. Per tranquillizzare, sì, per tranquillizzare soprattutto quelle che si sentono fuori. Ecco, io ci ho letto molto questo, nel libro, no, chi appunto è sovrappeso, chi comunque non si piace, chi ha delle preoccupazioni. Però poi in realtà anche le foto sono invece molto, no, fiere, no, di sé, no, insomma, ecco, sono corpi fieri di sé. Cercano su internet attualmente, molto su internet dove possono trovare davvero di tutto e anche in modo, no, poi anche disinformato, uno scientifico, spesso è così, eclatante, no, quindi magari paradossalmente non si rassicurano in questo modo. Se non nel confronto fra di sé, ovunque, no, il femminile ha da sempre. Sono molto, molto, molto preoccupati per il confronto con i modelli, con i modelli proposti dai mass media, ecco, quindi proprio, è quello che crea sempre, no, una, una gran difficoltà, no, poi a sentirsi adeguati, a sentirsi sereni, no, ecco, nel corpo che si ha. Ci può essere, no, una lettura, no, più fresca, più immediata, dove potete anche, no, incontrare tante piccole cose, no, che non avete a volte, no, così, insomma, l'opportunità di esprimere. Può essere un modo, no, per avere informazioni, no, scientifico e però anche per confrontarvi con tanti modi di essere. Eh, questo, insomma, mi sembra, sì, un messaggio che è importante mandare e può essere utile, sì. Quindi, certo, l'informazione prevalente è questa, no, il corpo che hai, qualunque esso sia, no, è un corpo importante, è un corpo buono, è un corpo, no, che ti appartiene e quindi lo devi accettare, no. E ha una risposta un po' per tutte, no, ecco, anche le possibilità, no, questo è molto attento, ecco, no, ad arrivare a tutte, non esclude nessuna.